fermo no sempre lontano dal trapano quando metti le mani nella punta trapano deve aver tolto metti bene no prima fagli fare il click vai lascia fermo bravo così questa qua prendila e rinfila la colla la mira però non tocca l'interruttore quando stai lì togli la mano dall'interruttore metti ricordati l'interruttore sempre ha contotto controllo quando lo tocchi vai giù vai fermo togli la mano dall'interruttore quando 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 vai a prendere qualcosa togli la mano dall'interruttore vedi che ce l'hai vicino non lo devi stare vicino la mano ferma togli pericolosissimo fermati no 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 vedi che c'è la mano vicino questa è pericolosa tu magari fai un movimento falso e si comincia a muovere questa è come una pistola la devi tenere con molta molta attenzione aspetta posso farcela da solo non so che puoi farcela ma devo controllare è una cosa molto pericolosa lascia lascia proprio lascia il trapano mai la mano quando ti muovi non ci devi avere la mano per niente però adesso togli completamente le mani da lì benissimo la prendi e me la dai perfetto dritto fermati togli completamente le mani e lo prendi non è facile è pericoloso perché ci vuole un attimo di distrazione le cose complesse sono fatti di tante piccole azioni facili ma in azione facile nasconde delle insidie eccola qua vedi da lì può nasce un incidente devi fargli fare il click prima ora lo muovi ora togli le mani tutte e due sollevi prendi questa prima fai il click c'è un ordine fai gli fai click vai adesso spingi fermati togli le mani prima di allungarti vicino la punta prendilo appoggi non ti avvicinare all'interruttore ora non ci metti la mano sull'interruttore prima no questo è un modo pericoloso prima fai gli fai il click ora appingi ora togli la mano completamente sollevi appoggi prendi e giù metti click muovi fermo sollevi no c'è la mano sull'interruttore via togli tutta la piastra bene adesso dammi questo ho già questo chiedi se ti metto pollici in su come per favore ciao 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 ciao